Take it easy, take it slow We ended up just like before So take it easy, take it easy Ragazzi prima di iniziare con il video vi rubo giusto due secondi Da come potete leggere da questo grafico Il 95% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale Quindi se sei nuovo e non sei iscritto al canale Mi raccomando iscriviti con la campanella attiva Ringrazio di cuore ognuno di voi che lo farà Veramente grazie di cuore Ora vi lascio al video, buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzi prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un bel like Mi raccomando iscrivetevi al canale con la campanellina E mi raccomando qua sotto un commento se vi va Ma direi che possiamo subito iniziare Oggi ragazzi andremo a vedere la sfida numero 4 di Aquaman In questa settimana 4 andremo a riscattare la nostra penultima ricompensa Ovvero il backpack di Aquaman Perché poi ci sarà l'ultima settimana Ovvero quella numero 5 Dove sbloccheremo il piccone si Ma anche la skin di Aquaman Poi per lo stile segreto ovviamente ci sarà o un'altra settimana O magari lo sbloccheremo addirittura sempre lo stesso giorno Però detto questo oggi andremo a vedere la settimana numero 4 Eccola qui Completa una prova a tempo di nuoto a moli molesti Sfida molto semplice Che adesso andremo subito a vedere la sua posizione esatta Di dove potremo farla E ovviamente andremo a sbloccare il backpack di Aquaman Ok ragazzi eccoci qua La posizione esatta è proprio qui Molimolesti ovviamente è questa qui Come potete vedere In questa precisissima zona dove mi trovo io O leggermente comunque poco più avanti Ragazzi ci sarà Apparirà una specie di cronometro trasparente di coloro azzurrino Dove se noi schiacceremo un pulsante insomma un qualcosa Potremmo accedere alla gara Che ovviamente ci darà poi dopo il completamento Il backpack di Aquaman Detto questo ragazzi Non è difficile Purtroppo non ve la posso proprio far vedere in questo momento Perché non è ancora uscita la sfida Quindi Però Ci sarà comunque questo specie di cronometro Basterà semplicemente attivarlo E fare la gara Magari anche Prendendo quel motoscafo lì Farete il percorso E una volta completato questo percorso Semplicemente riscatterete Questo fantastico backpack di Aquaman Detto questo ragazzi Per questo video sfida è tutto Spero che vi sia stato molto utile Noi ci vediamo domani Con un nuovo video sulle monete Bella Ciao